buongiorno a tutti oggi vi porto a fine valdarno per una bellissima ristrutturazione che facciamo con il super bonus a tra poco grazie a tutti Ciao a tutti! Eccoci a Figline Valdarno, come promesso siamo nella proprietà di un cliente che gli abbiamo venduto la casa in podere via Alcasale lo scorso anno e appunto siamo nella proprietà vicina confinante con Sting e tutte le volte a me questa cosa mi fa ridere che dico sempre ora si va da Sting che a me è più facile localizzare il casale in cui stiamo lavorando. Se ti ricordi avevo messo un video dove ho fatto vedere proprio il casale l'anno scorso. Finalmente il cantiere è partito, tra l'altro io sono venuto 15 giorni fa proprio agli inizi del cantiere, solo che c'era la neve, era freddissimo, ci avrò forse anche qualche spezzone di video se non l'ho cancellato. Buongiorno Pasquale! Buongiorno Dottore! Tutto bene? Benissimo! E come stanno procedendo i lavori? Bene, bene, nonostante tutto bene, dico nonostante tutto perché una parte dei lavori vanno al 110 e sappiamo tutte le complicazioni che ci sono in questo momento con il 110. Cosa prevedono i lavori? Qui andiamo a rifare la copertura senza sostituire la trovatura principale che è già in buono stato ma andremo a coedentarla, sostituiremo tutti gli infissi, facciamo l'impianto a pavimento, ci sono delle leggere modifiche alle aperture principali, abbiamo rinforzato comunque strutturalmente i solai e faremo tutti i pavimenti, tutti i bagni, la divisione interna invece non cambierà, se hai visto l'altro video vedrai che il lavoro finito sarà molto simile. E poi c'è il tema annesso che questo qui dovrà essere tutto riconsolidato, rinforzato e vedremo come fare perché purtroppo la struttura è pericolante. Il comune vorrebbe che noi la mantenessimo ma vedo notevole difficoltà, considerate che c'è nato un albero dentro praticamente, quindi è praticamente impossibile mantenerlo. Allora siamo appena entrati all'interno, c'è il rumore, qui se vi ricordate c'era la cucina che ci sarà poi una nuova cucina. In questo momento è stato abbassato il solaio e fatta diciamo il solaio areato e rifatto il massetto. Siamo nella fase in cui a piano terra si passano gli impianti e il grezzo quindi tutti corrugati, tube, acqua eccetera. Ora vi porto di sopra ma c'è confusione. Esco perché non si può parlare. Io posso togliere questa qua? Sì. Devo smontare tutto o sono io. Mamma mia. Io non posso metterci le mani a mano. Vado a prendere quindici centimetri. Poi ci metto un martello, questo qua è il mio. Prima hanno messo la cisterna e poi ci hanno costruito un torno. Esatto. Io direi che da figline per questa mattina è tutto, c'è troppo rumore. Ciao, ciao. Direi che da figline Valdarno è tutto. Iscriviti al canale, attiva la campanella, metti mi piace, condividi. Insomma fai qualcosa. Non è che si può lavorare solo noi. Dai se ci continui a seguire almeno vedrai come va a finire il cantiere. Speriamo bene.